Buongiorno dalla redazione di Forest Multimedia in studio Cesare Martignone. In A11 tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze, code a tratti e rallentamenti per traffico intenso. Nel tratto toscano della A1 si regista traffico sostenuto in entrambe le direzioni. Si ricorda che il casello Firenze in Pluneta rimarrà chiuso per lavori programmati fino al 31 agosto. In Fipilì per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna, nell'arco della giornata possibili rallentamenti e code con tendenza all'aumento in entrambe le direzioni. Tra Montelupo e lo svincolo di Empoli in direzione Livorno, code e rallentamenti per incidente. Un altro incidente sta generando code tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli, sempre in direzione Livorno. A Firenze per lavori publiacqua, disagi per modifica alla circolazione in Viale Matteotti e nel Viale Lavagnini, angolo Viale Strozzi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!